150 espositori, 30.000 presenze umane e altre tante canine. A Quattro Zampe in Fiera sono i nostri animali domestici veri protagonisti. Due giorni di informazione e di divertimento per imparare a convivere al meglio con cani e gatti. Quattro Zampe in Fiera è nata dieci anni fa, l'intento era quello appunto di mettere a confronto un mondo fantastico, quello dei cani e dei gatti, con la realtà che ruota attorno a questi splendidi animali a 360 gradi. Quindi le aziende, gli educatori cinofili, i veterinari per dare supporto agli umani che vivono con cani e con gatto e poter capire come trattarli, curarli nel modo migliore. Quando si sceglie la razza cosa bisogna guardare? Dobbiamo trovare quella razza che è più in linea con il nostro stile di vita. Non possiamo costringere un cane e un gatto che hanno bisogno di muoversi e di uscire all'aria aperta in uno spazio chiuso magari come le nostre case. e se siamo impegnati quotidianamente nel nostro lavoro e non possiamo dedicargli delle attenzioni lo costringeremo ad una vita che non è la sua. Animali da compagnia ma anche cani addestrati per la ricerca dei dispersi e non solo. Cosa stiamo vedendo qui? Cani da salvataggio in acqua in azione quest'estate hanno salvato oltre 30 vite umane sulle spiagge italiane. Questa associazione invece educa i cani di persone diversamente abili ad assistere il proprio padrone. Il cane d'assistenza può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di disabilità partendo appunto dall'allerta epilessia, cioè cani che allertano precedentemente prima di una crisi epilettica. I cani dell'allerta medica in generale come l'allerta del diabete che addirittura vanno a segnalare un calo ipodicemico o addirittura una crisi iperglicemica. Quindi tutte le disabilità possono essere affiancate a questo cane. Abbiamo un grosso problema sulla tutela di questi cani d'assistenza perché in Italia c'è una legge vecchissima del 1974 che tutela solo ed esclusivamente i cani per non vedenti escludendo tutte le tipologie di altre disabilità. Stiamo lottando e vorremmo cercare di modificare questa legge dando la possibilità a tutti coloro che hanno bisogno di un cane d'assistenza di essere anche tutelati a livello economico. Grazie.